L'atteso intervento del sottosegretario al turismo Lorenza Bonaiuti è venuto via Skype. Si è chiuso stamani presso l'hotel Mediterranea di Salerno all'open forum alle agenzie di viaggio protagoniste del mercato. Al tavolo dei relatori il gota del mondo del turismo a 360 gradi. Il presidente del coordinamento regionale dei distretti turistici della Campania ha parlato delle iniziative che possono veicolare nella nostra regione ancora milioni di visitatori. Prezioso l'intervento di Lucia Camarota magistrato di professione operatore turistica e scrittrice per passione. Ieri tutti i dati erano fisici localizzati in un posto. Oggi si è dissolto tutto in una nuvola che presto ci siamo abituati a chiamare iCloud. In questo senso non abbiamo più necessità né contezza di sapere dove siano i dati. L'importante per noi è accedervi da qualunque luogo e per mezzo di qualsiasi dispositivo. Per cui oggi siamo New Economy, oggi la nostra vita è virtuale e ci dobbiamo adeguare anche nella promozione del turismo diventa fondamentale. Per cui ciò che serve e ciò che secondo me rimane è l'esperienza che riesci a dare, il ricordo che il turista si porta a casa e quindi il prodotto turistico non è ciò che offri ma ciò che fai sentire, mettendo sempre la persona al centro.